Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini, il leader della Lega, chiede un incontro urgente con il premier, Mario Draghi. Di che cosa gli vuole parlare? Dice che, dice con queste parole, abbiamo assistito a 15 giorni di incredibile, tra virgolette, giornalismo. Inchieste dove poi, alla fine, tutto si è dissolto nel nulla. Ricordiamoci che il 27 di settembre comincia la prima inchiesta sulla Lega. Naturalmente tutto in vista delle elezioni, elezioni comunali, non sono neanche elezioni né regionali né politiche nazionali. La sinistra si è scatenata con il supporto del suo apparato, il giornalismo fiancheggiatrice, chiamiamolo così, o fiancheggiatore, diciamo. Il giornalismo fiancheggiatore della sinistra, che ha appunto operato in supporto a una sinistra che non riesce a trovare lettori, perché non ha nulla da proporre. E dato che non ha nulla da proporre, arrivano in soccorso le pseudo-inchieste giornalistiche fatte addirittura non in tre anni, in cinque anni, quelle di Fanpage, dove istigano a commettere illeciti per registrarli. Poi, non so se avete visto che Fanpage ha utilizzato le stesse parole di quel barone, Lavarini, ha utilizzato le stesse parole per l'inchiesta su Fratelli d'Italia e le stesse parole sull'inchiesta su La Lega. Questo Lavarini che dice dobbiamo esserci anche noi, ma chissà quelle parole intanto in quale contesto erano dette, chissà dobbiamo esserci anche noi. Mentre Fanpage ha preso lo stesso filmato e l'ha tenuto buono per La Lega e per Fratelli d'Italia, pensando che nessuno se ne accorgesse, per far capire che anche questo Lavarini vuole entrare nella politica seppur locale, ma si capisce che il montaggio è stato fatto in maniera vile, perché prendere quello che dice questo Lavarini e utilizzarlo per due filmati diversi, l'hanno messo a confronto, era lo stesso filmato, quindi filmato, montato, montato ad arte. O come quel eurodeputato della Lega che dice bisogna fare come nella prima e nella seconda guerra mondiale, tagliano la frase perché poi lui continua dicendo e si capisce che quella frase detta in un altro contesto non aveva nessun senso strano. È una frase che questo eurodeputato ripete spesso, ma non c'è niente di male perché sta parlando di altre cose, mentre tagliata a metà quella frase e messa nel contesto di quel montaggio assieme ad altre cose sembrava, ah caspita hai sentito cosa ha detto l'eurodeputato della Lega, parla addirittura di guerre mondiali, invece era questo agente infiltrato che non era nient'altro che un provocatore di illeciti, registra queste parole dell'eurodeputato, estrapolano da questo discorso che stava facendo che non c'entrava niente con nostalgia di nessun tipo e lo vanno a montare in un servizio più ampio dove tanti pezzi messi insieme creano la suggestione. Quindi questo ciocca ha poi intrapreso le vie legali e ha fatto ciocca, non lo so, forse ho detto, non sono sicuro di questo nome, casomai lo ritiro, non sono sicuro che sia questo il nome dell'eurodeputato, però intraprenderà delle vie legali perché hanno cercato di infangare questa persona che non ha detto assolutamente nulla, assolutamente nulla. Quindi da questi due esempi che vi ho fatto capite che c'è stato un montaggio per voluto, non è stato un giornalismo di inchiesta che voleva dimostrare con video e audio, voleva dimostrare alcune cose. In realtà alcune cose ci sono state, abbiamo visto tante cose che secondo me sono sufficienti per cacciare dal partito, per esempio fidanza, secondo me, mia opinione personale. Anche se sono state tagliate non importa, quello che si vede si sente è sufficiente, ma si capisce che tante altre cose sono state appiccicate per creare una suggestione, tagliando mezze frasi per creare una suggestione. Ad esempio, se io vi dico, è così non va bene, che la patente adesso dura tre anni, una sciocchezza, che adesso dura tre anni e ogni tre anni devo rifare la patente, così non va bene. Se voi prendete e ritagliate il mio così non va bene e lo attaccate, questo mio piccolo video tagliato dove io dico così non va bene e prima ci mettete uno che dice, ma scusi, è la democrazia? Lei cosa dice sulla democrazia? Dobbiamo comunque essere in un paese democratico e poi gli mettete il mio pezzettino, così non va bene, non la voglio. Ecco, se io ho detto così va bene, non la voglio, la patente, ma voi tagliate così non va bene, non la voglio e c'è un altro che dice, scusi, ma lei cosa pensa della democrazia? E poi ci sono io che dico così non la voglio. Capite che io, ad esempio in un servizio di questa specie di vengo infangato, dice avete visto che cosa ha detto quello lì? Ha detto che non vuole la democrazia, invece io stavo parlando della patente che avevano ridotto la durata per poi rifarla. Capite come si può creare ad arte e infangare delle persone? Quindi una cosa è il giornalismo che cerca di dimostrare qualcosa, in alcune parti di fanpage è così, ma in altre parti c'è una ricostruzione che secondo me è passibile assolutamente di denunce, come stanno facendo in molti e fanno bene. Quindi giornalismo d'inchiesta quello lì? Me lo chiamate giornalismo d'inchiesta? E lì il direttore di fanpage lì da formigli? Ma dai, ma che vergogna, che vergogna. Quindi Salvini chiede un incontro al Premier urgente per pacificare la situazione. Dice abbiamo avuto 15 giorni di dichiarazioni assolutamente compromettenti, abbiamo visto che poi non c'era niente nell'inchiesta contro la Lega, ma chi chiederà scusa? Ovviamente nessuno. Dice ma chi governa adesso l'ordine pubblico di questo paese se non sono riusciti a fermare 5 persone? Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.